Due lettere alla prefettura per chiedere interventi urgenti, magari la presenza di una pattuglia in orario serale in stazione a Lecco al momento della partenza dell'ultima corsa per la Valsassina. A scriverle Valentina Astori, amministratore delegato di Saba, l'azienda trasporti che copre l'80% delle corse extraurbane in provincia. La notizia all'indomani dell'aggressione di due controllori da parte di un gruppo di studenti sull'autobus di linea, in questo caso di ATM, da Colnago a Merate. Solo l'ennesimo episodio di violenza. Ora, nel Mirino, quanto accade quasi quotidianamente sul bus in partenza alle 20.10 da Lecco e diretto a Taceno, solitamente utilizzato dai profughi che risalgono in Valsassina diretti all'ex colonia degli artigianelli a maggio di Cremeno. Nessuna violenza fisica, sia chiaro, precisa la Astori, ma in un paio di occasioni si sono verificati episodi di intemperanze e in un caso è dovuto intervenire un vigile di Ballabio. Insulti, minacce, aggressioni verbali. Gli autisti hanno l'indicazione di lasciar perdere se vedono che la situazione rischia di degenerare, il più delle volte chiedere il biglietto è impossibile. Per questo mi sono rivolta al prefetto di Lecco, l'ultima volta a luglio, per cercare di concordare insieme un possibile intervento, ma ancora non abbiamo ricevuto risposta. Meno diplomatici, gli autisti degli autobus, che pur preferendo non apparire davanti alle telecamere, parlano di una situazione di grande apprensione. Siamo praticamente ostaggio di questi utenti, che in orario serale prendono il pullman per la Valsassina, ormai non gli diciamo più nulla. Preferiamo salvaguardare la nostra incolumità, ma davvero si lavora con la paura, spiegano. Alcuni colleghi, in particolare delle linee che servono il Comasco, sono stati dotati di una sorta di palmare che consente di attivare direttamente la richiesta di intervento da parte delle forze dell'ordine, ma la presenza di una pattuglia in stazione la sera, nell'orario di partenza dell'ultima corsa, consentirebbe forse di ridurre i disagi. Non sta a me dire alla prefettura quali soluzioni adottare, spero solo per ogni una risposta celere perché operare in queste condizioni è davvero complicato, conclude Valentina Astori.